Ma Abe... Ci stavo giudizio! Cioè, non ha fatto male... Ma Abe, uno di noi... Non si è comportato bene! Non si è comportato bene! Ci l'ha sparato! Beh, cosa ne pensi? È uno storto! E secondo te? Anche per me! Non lo so! No, ragazzi! Oh, per favore! Lasciatelo!